Anche l'ex vice sindaco di Brovello Carpugnino, Gian Piero Vecchi, assistito dall'avvocato Alberto Zanetta, che ne ha da poco assunto la difesa, si trova agli arresti domiciliari, così come l'ex sindaco Cristina Bolongaro. Sono stati i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria a notificare entrambi la misura cautelare. Vecchi era responsabile delle messe alla prova all'interno del comune. Per questo è coinvolto nell'indagine coordinata dalla procuratrice capo Olimpia Bossi per le firme che l'ex sindaco Bolongaro avrebbe apposto il registro delle presenze al posto del compagno che proprio nell'ambito della messa alla prova stava svolgendo ore di lavori socialmente utili all'ufficio tecnico comunale. La messa alla prova è infatti un istituto giuridico che consente di estinguere un reato in cambio di ore dedicate a lavori socialmente utili o al volontariato. Contestualmente alla perquisizione in municipio dello scorso luglio con il sequestro del registro delle presenze, la procuratrice aveva chiesto anche la misura cautelare negata dal GIP. A quel punto la procura aveva presentato ricorso a riesame che invece aveva concesso la custodia ai domiciliari. I due indagati avevano però ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha rigettato la loro istanza e quindi da ieri la misura è stata applicata. Bolongaro si era autosospesa subito dopo la perquisizione in municipio per poi dimettersi in municipio infatti sottoposto a commissariamento prefettizio.